Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video ed eccoci qua a giocare a Pro Cycling Manager Vi avevo accennato nel video precedente che ero indeciso se andare a fare la modalità carriera o la modalità pro cyclist come abbiamo già fatto e ringrazio chi ha commentato sotto al video perché in realtà era già la mia idea quella di fare la modalità carriera e voi avete confermato questa mia idea e quindi sono gasatissimo nell'andare oggi a creare la squadra e iniziare a gareggiare prima di andare a realizzare il video però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e mettere un like a questo video è una cosa totalmente gratuita per voi ma per me può fare una grande differenza per poter continuare a creare questa tipologia di video e non solo e ora andiamo a creare finalmente la squadra quindi andiamo all'interno della carriera alla fine sono riuscito a mettere un bel po' di biciclette che ci sono all'interno dei team reali quindi dopo appena si aprirà la grafica vedrete tanti marchi che il gioco non ti dà di base e sono anche riuscito a mettere oltre le bici caschi anche ho messo e ruote in questi giorni ho smadonato un bel po' ho fatto diverse ricerche alla fine ho anche cambiato la mod del gioco come avete visto questa si chiama D-Baguette che rispetto a quella che abbiamo visto l'altro video in realtà non si chiama mod ma adesso non mi viene in mente il nome comunque penso che avete capito quello che intendo e ho messo questa D-Baguette perché alla fine è praticamente uguale ci sono gli stessi corridori, le stesse maglie e pesa leggermente di meno quindi siccome il mio computer non ha tantissima memoria interna di suo perché io sfrutto principalmente le memorie esterne e contando che io sto utilizzando un Mac quindi non è un computer Windows che fa girare il gioco meglio che sia un po' più leggera poi con la scusa è che ho scaricato tutte le varie biciclette in più, tutte le varie ruote in più tutte le cose che ho scaricato in più meglio che sia un po' più leggera quindi per quello ho scelto D-Baguette allora andiamo a scegliere la maglia poi andiamo anche a scegliere il nome attenzione questa non l'avevo visto, Cannondale, bellissima questa allora adesso a voi ve le farò vedere molto veloci però allora il gioco di base non ti dà tutte queste maglie anzi ne dà qualcuna però non si vedono neanche i marchi perché giustamente per copyright non lo possono fare però andando a scaricare però questa fa parte diciamo del pacchetto che ho scaricato prima in D-Baguette è bello perché sono le maglie di una volta tipo la Belkin per chi non lo sapesse è il vecchio, è la Visma attuale e si chiamava una volta Belkin lo è stato per pochissimo tempo in realtà perché dopo Rabobank che era lo sponsor quello storico del gruppo che adesso corre il team Visma dopo un po' di anni è diventato team Belkin che è durato, sono arrivato male sei mesi e poi è subentrato un altro sponsor che è anche quello adesso non mi ricordo perché non mi sono preparato è cosa interessante ma oltre a quello adesso ne troviamo anche tante altre tipo Casteparnia, tipo CCC un botto di maglie molto belle allora andiamo a vedere velocemente quali sono anche Credita Agricol così intanto credete anche voi sceglierò anche io la mia futura maglia di team molto bella questa della lampre modificata questa mi ha gasato un po' devo dire questa anche della Liquigas modificata di una volta allora vorrei aprire un capitolo sulla maglia della NetApp per chi non lo sapesse il team NetApp sarebbe attualmente il team Bora oppure team Red Bull potremmo già chiamarlo ma non vi dico altro perché più avanti anzi tra pochissimo ci sarà un video dedicato sulla team NetApp bellissima anche questa della Omega Parma bella molto bella bella che questa è la Patagonia Specialized pieno di maglie che mi fanno gasare un botto anche qua RadioShack vecchio che sarebbe la vecchia Trek bellissime certe maglie e nel sito dove e nel sito dove puoi andare a scaricare le moto quindi puoi andare a scaricare un botto di bici puoi andare a scaricare un botto di ruote e caschi e puoi scaricare anche un botto di maglie ho trovato 300 pagine mi sembra non le ho viste tutte perché erano tantissime ma penso di averne visto quasi 100 ho trovato delle maglie stupende allora intanto vediamo le altre maglie che ci sono a disposizione che tra poco abbiamo finito e poi vi svelerò la mia idea siamo tornati in realtà adesso all'inizio quindi a questa maglia della Cannondale molto bella con il tricolore molto molto bella allora quando io vado a scegliere una maglia poi va anche a influire la nazionalità esempio ci cadiamo proprio a pennello se io voglio la maglia del team Barilla sarà una squadra italiana se voglio la maglia del team Bagging sarà una squadra statunitense quindi questo andrà a influire sicuramente anzi andiamo al contrario perché vi svelo la mia idea di squadra quello che ho pensato in questi giorni un'idea che mi ha gasato un bel po' anzi attenzione di questo non mi ero accorto eh questa potrebbe farmi cambiare un po' idea ma no andiamo su quella che avevo in mente però non mi ero accorto di quella maglia allora eccoci qua eravamo vicinissimi vorrei fare una squadra tra Swatch Taguer o Taguer non so neanche come si dice e Tissot che sono tre marche di orologi tre marche di orologi che si vanno a ricollegare al video che avevo fatto ormai due settimane fa dove vi andavo a parlare dei marchi di alta orologeria all'interno del mondo del ciclismo e attualmente se non avete visto il video vi consiglio di andarlo a rivedere che ne vado a parlare nel dettaglio c'è Tudor in primis che è il primo sponsor del team Tudor poi c'è Breitling che è lo sponsor del team Q36.5 e Richard Miller che è lo sponsor del team UAE e devo dirvi che sono un bel pondecito tra Tissot e Taguer in realtà l'idea è sempre la stessa però mi sa che scelgo Taguer per questa maglia con il soldo è molto molto figa allora il nome no ma adesso ci penso se dare le mie iniziali il classico DS o il classico LDS giusto per fare una cosa semplice oppure andare a mettere il nome di uno sponsor ma normalmente potrebbe essere Taguer direttamente oppure mi invento io uno sponsor ma prima di tutto questo andiamo a scegliere i corridori obiettivo fare una squadra di non tantissimi corridori perché se no poi diventiamo stupidi a ricordarceli tutti e deve essere una squadra professional con tanti corridori giovani questo è un corridore che mi piace tantissimo Jonas Abramsen una storia molto carina la sua lui è 28 anni ha sempre corso col team 1X e ha buttato su 20 kg per essere un uomo squadra quando ho visto che non riusciva a essere un capitano perché ha pensato come poteva essere più utile alla squadra e allora ha deciso di buttare su 20 kg 20 kg di muscolo quindi non una cosa molto semplice uno che si allena tantissimo e in questo ultimo anno sta andando davvero forte ha vinto la sua prima gara poche settimane fa settimana scorsa oggi è sabato sabato scorso è arrivato secondo un'altra gara in Belgio e quindi gran bel corridore ma non perdiamoci in chiacquere che per ora ho parlato fin troppo andiamo a vedere prima di tutto i corridori a 18 anni andiamo a vedere la valutazione più alta quello che è la valutazione più alta è Matthew Brennan corridore del team Visma forte in volata forte in collina molto interessante stipendio 6500 euro direi corridore nostro secondo corridore interessante corridore da corsa tappe che sta planando al giro next gen e lo buttiamo dentro la squadra dopo di lui non potrebbe mancare Jorgen Nordhagen si parla un gran bene di lui ve ne avevo già parlato nello scorso video e direi di buttarlo dentro corridore italiano buttiamolo dentro assolutamente Simone Gualdi Matisse Grisel collina 71 selezione 70 promette bene qualcuno che va forte in volata adesso dobbiamo mettere all'interno bello che tutti questi nomi se andiamo a guardare il giro next gen il giro d'italia under 23 li troviamo li troviamo davanti tipo io in questi giorni ho conosciuto bene e l'ho visto finalmente Yarno Wither l'ho visto quanto forte va vediamo chi ha il più veloce in volata oltre a Matthew Brennan ci siamo comunque velocisti ci siamo comunque velocisti che aiutano il velocista principale e un Davide Donati che ha questi bei numeri è dentro il nostro team Zach Ernan anche lui non è male però lasciamo un attimo in stempai prendiamo Liam O'Brien direi che per ora 7 corridori a 18 anni possono andare più che bene adesso andiamo a vedere i corritori a 19 anni che già qua si inizia a fare interessante perché c'è Joshua Tarlin c'è Morgado c'è Ian Christen c'è Paul Magnet ce ne sono tanti tanti di molto interessanti noi non dobbiamo spendere troppi soldi perché se no rischiamo se la squadra non va bene di andare in banca rotta quindi meglio evitare dopo devo ricordarmi di mettere nome quindi andiamo a vedere quelli che non costano troppo tipo un Ian Christen a 15.000 ce lo potremmo permettere perché comunque è una squadra che qualche gareta a World Tour l'andremo a fare puntiamo secondo me a le gare a tappe e puntiamo anche alle classiche che mi ispirano un bel po' tipo un Grisel che ha 69-60 anni sul pavento altro correttore che mi piace Kulset buttiamolo dentro dopo l'esclusione dopo la squalifica che ha avuto da poco al giro di Slovenia per aver utilizzato una posizione troppo aerodinamica in discesa buttiamolo dentro la nostra squadra è già il secondo norvegese che abbiamo in squadra e oltre a lui chi buttiamo dentro però vediamo se Paul Magnet dove è Paul Magnet eccolo qua Paul Magnet 68 nel pavento ci costa troppo meglio meglio Fairprost avevo già messo all'interno del mio team e mi è piaciuto e buttiamo dentro quindi sono deciso di buttare dentro un corridore fortissimo allora intanto vediamo qualcuno per le volate ci serve Paul Magnet costa troppo però Noah Opins attenzione questo è fortissimo questo mi piace Noah Isidor che è campione nazionale francese Ander 23 ho visto tra l'altro quindi vediamo se le cose Ander non le possiamo fare se diventiamo una professional e quindi non potremo vedere quella maglia attualmente abbiamo 11 corridori siamo ancora una squadra continental e vediamo chi sono i corridori forti a 20 anni prendiamoli tutti 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 i giovani vabbè questi ci costano troppo vediamo quanto va Maxpool 23 no Pellizzari Pellizzari potrebbe essere interessante lo compriamo vai compriamo Pellizzari che fa compagnia quindi poi Gian Chris per ora sono i nostri due capitani sono ancora indeciso in realtà se prendere uno capitano forte forte vabbè io uso questa troppo devi costa troppo c'è affitto questa troppo Tibo Onis è uno che mi piace molto Tibo Onis mi piace molto perché era un fan di suo padre Sven però costano costano troppo costano troppo vediamo Pity invece però Pity costa anche lui tanto vai puntiamo sul pavè prendiamo Lorenz Pity Lorenz Pity guardiamo quanto forte va in volata no no 30 non li spendiamo 30 non li spendiamo perché ho in mente Michael Madis Michael Madis dai potrebbe essere lui il nostro velocista e oltre a lui ho intravvisto un altro bel nome che è Alex Segart vabbè molto forte cronometro forte dai buttiamolo dentro buttiamolo dentro nel team direi ancora un corridore non abbiamo una punta un corridore fortissimo però abbiamo tante seconde punti e punte attuali molto forti tipo Matthew Brennan se non è questa stagione del gioco la prossima sarà uno dei più forti Ian Kristen uguale tutti i corridori che se forse non all'inizio di stagione ma da metà stagione in poi ci daranno tantissime soddisfazioni e dalla poi inizieremo a vincere un botto e la squadra secondo me è già dalla seconda stagione sarà world tour vediamo vediamo sono proprio curioso a vedere cosa cosa succede buttiamo dentro qualche altro bel corridore anzi togliamo il limite d'età vediamo chi ci consigliano loro proprio allora vediamo se c'è qualche bel nome che mi piace che possiamo buttare dentro ok non costa troppo quindi sotto i 20 sotto i 20 la vedo molto molto dura facciamo così io rimetterai il limite d'età non mi credo chi era 19 anni che era fortissimo tipo morgado potremmo rischiare a prendere morgado vai prendiamo morgado e ultimo corridore che prendiamo giusto per averne 16 8-8-16 quindi se ci sono due gare abbiamo due squadre complete c'era vediamo come votazione è più alta questo belga liam van weyden speriamo che la montagna potrebbe essere una bella cosa milan donni regno unito patinson resistenza e combattività molto bene borgo pianura accelerazione ah andrew august che oggi è il giro di svizzera che è stato in salita ah no il giro di slovenia scusate dai l'ultimo sono molto molto indeciso potrebbe essere prendiamo milan donni dai che ci può aiutare in salita nome del team allora io vi dico la verità volevo mettere team ciclismo sconti che potrebbe essere visto che lo vedete all'interno di tutti i miei video è uno dei miei canali telegram dove ogni giorno vado a mettere delle offerte riguardanti il mondo del ciclismo ormai sono anni che c'è e è il più seguito in Italia e vado molto fiero di quel canale quindi volevo andare a mettere quel nome però dai rimaniamo fedeli e teniamo la scritta tag oir team tag oir quindi ti ti non mi ha avviato facciamo perché facciamo perfetto t h t h r ok no ci mancherà ancora ciclisti ci mancherà ancora quattro ciclisti quindi qua eravamo decisi buttiamo lui in squadra buttiamo no dai buttiamo qualcuno un po' più esperto a sto punto visto che dobbiamo spendere soldi sperchiamoli ormai su corritori ancora più forti tipo Paul Magnet Paul Magnet mi ispira molto mi dico la verità poi andiamo su Ergoz ancora due io vorrei qualche italiano però all'interno perché ne ho solo due vediamo se mi aiutano valutazione alta Conforti dai Conforti dai Conforti sarà uno di noi e chi potrebbe esserci belletta mi ricordo che nel 2023 era molto forte quindi buttiamo all'interno anche lui nella squadra bene adesso ci mette un attimo tempo che ci pensa tempo che carica un attimo i calendari carica un attimo tutto e approfitto per chiedervi se vi fa piacere che almeno una sera settimana ci troviamo tutti assieme in live sia su YouTube che su Twitch per giocare assieme a ProCycling Manager all'interno di questa squadra oppure possiamo anche creare il profilo ProCyclist intanto qua ci dicono le prime e meglio ci arrivano e qua accettiamo non ho voglia di leggere ci c'è il prestagione è la attenzione programma di sviluppo KTM bene bene qua ci dicono che possiamo sviluppare bene abbiamo come telaio KTM come ruote DEDA e possiamo andare a sviluppare un nostro modello questi sono i modelli che abbiamo a disposizione qua vediamo Revelation alto aerodinamica una stella male leggerezza tre stelle comfort una affidabilità molto scarsa sensazione scarsa Revelator lease tre stelle una stella possiamo decidere che modello e possiamo decidere se fare delle grandi modifiche piccole modifiche o riprogettare il modello e direi che questa è una delle biciclette che utilizzeranno di più i corridori della classifica e riprogettiamo il modello perché la Revelator lease ha comunque tre stelle sull'aerodinamica quindi se qualcuno la vorrà utilizzare ha già comunque una base di partenza un po' più alta quindi iniziamo la ricerca per lo sviluppo anche questa parte ve l'avevo già accennata nello scorso video che c'è la possibilità di andare a sviluppare le biciclette che abbiamo molto molto bella secondo me ultimo giorno per chiedere l'invito le gare world tour attenzione non ho guardato il calendario quindi andiamo subito a guardare il calendario eccoci qua all'interno del calendario queste sono tutte le squadre le gare dove siamo già iscritti al tour da un under anche se sarà una gara world tour io eviterei di andare al due tour siamo già iscritti e sta cosa mi gasa alla omelot che siamo nel pavè mi piace andare top parigi inizia non ci siamo tirreno adriatico non ci siamo io direi di andare alla tirreno si dai diamo la tirreno e per il resto vediamo se ok c'è la milano sanremo proviamo a richiederla ma la vedo un po' dura siamo iscritti a un botto di gare ma giusto un botto di gare e3 saxo ok gant ok c'è la x quindi è in dubbio la partecipazione ma non importa giro delle fiandre ovviamente ci dobbiamo essere allora qua bisogna un attimo togliere qualche gara secondo me vabbè la facciamo lo stesso la peggio la simuliamo quindi questa parte l'abbiamo fatta accettiamo e accettiamo ok il quarto giorno adesso ci dovrebbero parlare degli scout poi devo dire che abbiamo fatto un bel team Pellizzari Segart Michels Conforti Morgado Kristen ok alcune questioni obiettivi degli sponsor andiamo a vedere cosa ci richiedono i nostri sponsor riceve l'invito alla corsa semplice riceve l'invito alla corsa criterio del definato riceve l'invito alla corsa male perché perché non l'abbiamo richiesto perfetto proviamo a fare Milano Sanremo a questo punto che l'invito l'abbiamo chiesto invece allora il terreno del definato non ci serve facciamo Tirreno Adriatico ok qua abbiamo tutti invito quindi non dobbiamo fare niente a posto a posto facile facile fornitori di recuperaggiamento come abbiamo visto prima abbiamo telaio KTM ruote ed elementi e gruppo SRAM e tramite tutte le mod che sono riuscito a scaricare dovremmo anche vederli reali molto molto figa sarà come cosa ok qua siamo a posto andiamo a vedere velocemente gli allenatori quali sono allora no Isidor forma bassissima allenatori ok andiamo a vedere che intanto si allenano per quello che devono fare per il tipo Michael Madis non è uno scattista deve essere velocista anzi addirittura uomo da corsa da classiche del nord Ian Christ mettiamo la corsa a tappe Morgado in realtà qua Morgado è Morgado va forte dappertutto quindi lasciamo la corsa a tappe per ora Pellizzari vediamo se potrebbe essere corsa a tappe lasciamo lo scalatore classiche del nord a Segar assolutamente Brennan velocista però potrebbe essere anche uno scattista lasciamo uno velocista per ora Fairprost scattista ci potrebbe stare io lo metterei scalatore dai per ora anzi lasciamo lo scattista può andare bene cool set corsa tappe metterei più scalatore Yarno Weaver corsa tappe perché lo metti velocista perché Emil Ergoz molto forte in salita devo dire molto molto forte però Ergoz va forte va molto forte anche nel pavere comunque lui lo mettiamo scattista non velocista perché comunque potrebbe anche essere da corsa tappe no tag in corsa tappe no easy door scattista no cosa è successo cosa è successo Lorenzo Conforti velocista non può essere una corsa tappe dai fratello non puoi fare così gualdi collina scattista ok matisse scattista velocista donio donio scattista ok queste sono quelle cose noiose che devono essere fatte una volta ogni tanto purtroppo e siamo un attimo rigerato tutto quindi O'Brien ok e Igor belletta collina collina accelerazione scattista mettiamoli all'interno di tutti un allenatore in questo caso lo mettiamo a caso con l'idea di andare a prendere di andare ad acquistare poi più avanti degli allenatori un po' più seri facendo un po' più di budget perché attualmente non abbiamo un budget tanto alto perché più andiamo avanti dobbiamo pagare gli stipendi a tutti i corridori allo staff eccetera quindi dobbiamo stare un attimo attenti allora Bretagna classic non ci interessa e dai direi che può andare bene no dai allora gli obiettivi del team meglio meglio stare attenti ci possono togliere soldi quindi meglio stare attenti mentre Saxo piuttosto tutte le carie le carie vogliono loro e bene oltre a questo vogliono che vinciamo 15 corse finisce i primi 20 nella classifica squadra mondiale non un obiettivo da poco ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta finalmente ce l'abbiamo fatta ok adesso andiamo a mettere gli scout in giro quindi ne abbiamo due andiamo io direi in Europa e andrei in Belgio questi bassi no dai andiamo in Belgio e mettiamo lui e poi andiamo in Sudamerica e andiamo in Colombia e andiamo lui e mettiamo qualcuno in Italia in teoria dovrebbe trovare addirittura i corridori reali ok dai si ci fa no l'Austria va bene ci va ci va comunque vede giusto per tirar su qualche corridore e stavo pensando proprio adesso che potrebbe essere carino far anche il team under 23 a questo punto vediamo vediamo come mi gira dai nella prossima prossima puntata vediamo che il team under 23 allora sono curioso a fare intanto la prima gara che è tra pochissimo sarà la prima gara in Spagna non mi aspetto anzi no vorrei far vorrei far bene eccoci qua Comunità Valenziana che sono le gare di inizio stagione vediamo chi schierare mettiamo chi è in forma prima di tutto quindi O'Brien Donnie Seegard tipo Curset tipo Belletta tutti loro hanno una forma troppo troppo bassa quindi direi che che non ci sta allora una gara involata quindi nel dubbio per scegliere il capitano facciamo sprint Noah Isidor è il quello più in forma in questo caso quindi sarà lui sicuramente il capitano e Matisse Grisel oddio a 68 non tantissimo dobbiamo vedere magari chi è forte in accelerazione sempre Grisel non importa va bene comunque la prima gara è l'inverno proprio è il prestagione alla fine in la comunità valenziana quindi ci sta dai allora chi mettiamo no ok vediamo chi è più in forma Fairpost vai Fairpost è uno di noi riunione informativa vediamo che praticamente è una piattume i favoriti della gara sono Van Dijk Van Poppel Morkov addirittura quindi non abbiamo velocisti di tutto rispetto ruote da 62 ovviamente direi in questo caso e bici aerodinamica riunione informativa ci dice che no non deve essere Nordagen il favorito ma deve essere cioè il nostro capitano scusate il nostro capitano deve essere Noah Isidor ok Nordagen devi tirare come se non ci fossero domani e quindi il nostro secondo capitano è Grisel controlliamo Segart dai facciamo che Segart è il secondo capitano ok e direi che finalmente possiamo andare a correre andiamo a fare la nostra prima gara con il team Tag Hoyer il secondo team sponsorizzato da un brand di orologi dopo il team Tudor maglia molto bella molto carina con il signor Paperone Paperoni che sgancia i milioni nella parte centrale maglia creata da Asos sarà molto figo vederla dal vivo in questo caso intanto speriamo che la prima gara va bene ma comunque è una gara in preparazione in prospettiva delle gare future spero che questo video vi sta piacendo questa è solo la prima puntata del della carriera di Proxychip Manager 2024 sto pensando anche di fare una diretta ogni sera prima dell'etapa del Tour de France in modo tale da andare a simulare la tappa che ci sarà poi il giorno successivo fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questa idea e mi aspetto un bel po' di commenti allora assicuro le prime tre tappe mi sa che non riuscirò a farlo ma dalla terza in poi ogni sera dovrei farcela o farvela trovare diciamo nel canale oppure farla addirittura in diretta insomma sarebbe ancora più figo ma se non ho un seguito dietro le dirette non vale neanche la pena farlo quindi per questo vi chiedo ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti vi sto dicendo che le prime tappe non riuscirò andare a fare il video perché andrò a vedere dal vivo direttamente io il tour de france sono molto molto casato di questa cosa allora togliamo il maiuscolo eccoci qua molto bella la maglia allora ho sbagliato un attimo no ok ho sposto un attimo il microfono per se no non riesco a giocare bene spero che intanto si senta mettiamo tutti i corridori davanti allora come si nota i caschi sono quelli reali direi il completo molto carino perché abbiamo i caschi casc si vede proprio che sono loro si vedono i caschi reali quindi per esempio la suite protection molto aerodinamico che se volete sapere qualcosa di questo casco intanto possiamo partire in fuga Nordhagen ho fatto anche un video riguardo molto bello da vedere molto bello ma anche i caschetti varrise i caschetti ecoi i caschetti yulbo vabbè i pochi c'erano già i specializzanti sono tutti uguali al reale quindi molto molto bella questa cosa vediamo se dalla ripresa della moto riusciamo a vedere qualcosa in più eccoci qua il gruppo si vede proprio la servelo che utilizza il timbisma perfetta molto molto bella da vedere che ci dà quella sensazione di reale nel gioco intanto occhio che i corridori non vanno troppo avanti quindi intanto mettiamo Segard che si posiziona qua molto figa devo dirla tutta del team Tagoir molto bella con i caschetti casc anche quindi sono molto molto soddisfatto diciamo di questa scelta intanto vabbè non tirate ragazzi state a ruota in questo caso ok mettiamo giusto un secondo in pausa allora questa è una cosa nuova la schermata sulla destra quando quando andiamo a vedere l'altimetria è nuova e devo dire che forse è più comoda rispetto a quella vecchia quindi Noah Isidore dobbiamo proteggerlo dov'è che è Noah Isidore eccolo qua e lo proteggerà Donnie Griselle Griselle lo proteggerà ok proteggiamolo e via intanto O'Brien che fine ha fatto eccolo qua top ok li abbiamo tutti qua vediamo Nordhagen cosa sta facendo ok Nordhagen sta tirando un po' troppo quindi mettiamolo a 50 a ruota cioè può collaborare ma abbiamo 3 minuti e mezzo quindi devo dire che ha tirato ecco un po' troppo Nordhagen sono in un gruppo di 13 corridori attenzione la situazione sta diventando interessante tanti tanti corridori davanti peccato che abbiamo mandato un corridore che non è velocissimo per il Nordhagen c'ha 63 e 68 quindi 68 di accelerazione e 63 in volata io una volta so avevo nel project manager che utilizzavo la possibilità di andare a mettere di vedere il corridore di fronte era proprio un'altra tozione che c'era qua però né in questo project manager né nel 2023 non si può fare quindi scrivetemi voi qua sotto nei commenti se conoscete un metodo per riuscire a vedere il corridore di fronte perché l'unico metodo per vedere la bici è quello di utilizzare la la videocamera di dato ecco qua riusciamo a vedere molto bene il gruppo si vedono le bici vanries le le wheeler del team gruppa ma le factor che di base te le dà pro second manager però è molto più realistico e mi gasa molto questa cosa vedere tutte le cose reali come i caschetti come le ruote vediamo se riusciamo a vedere bene anche le nostre ruote dei da elementi qua si vedono le factor qua si intravedono le DT Swiss del team Tudor molto belle team Tudor che è il team che ci fa concorrenza noi che siamo il team tag OIR scrivete qua sotto nei commenti se vi piace la scelta di aver creato questo team con un brand di orologi come vedete il gioco fortunatamente riesce a girare bene ho tolto un po' i dettagli perché laggava un po' quindi ho preferito togliere qualche dettaglio dalla mappa dove evitare di far saltare il computer visto che comunque lo sto utilizzando con una macchina virtuale utilizzando il Mac forse che il manager non si può scaricare quindi l'unico metodo è quello di utilizzare una macchina virtuale intanto facciamo scorrere sempre veloce la tappa vediamo dall'elicottero il vantaggio che abbiamo che per ora mancano 167 km l'arrivo 4 minuti e 50 devo dire che siamo belli che tranquilli la prima parte di gara tanto vediamo che non c'è dentro la prima parte di gara è mossa intanto ritorniamo su Nordhagen che potremmo anche farlo collaborare un po' di meno perché essendoci tanti corridori davanti anche tanti corridori doppi tipo la Karual a due corridori la Jeiko a Lula due corridori Team World Tour Leo Scaltella due corridori Le Corrate che anche mi sa che ne ha due e quindi perché dobbiamo proprio tirar noi intanto ci facciamo vedere ci facciamo notare là davanti e poi dobbiamo essere pronti con la volata di Noah Isidor Noah Isidor che oggi sta bene ha un più due quindi la sua volata da 71 passa a 72 che non è tantissimo anche Kaschiavus abbiamo molto bella questa inquadratura anche le biciclette hanno la colorazione reale del team questa cosa mi casa moltissimo poi in base al team esempio team De Koenig vediamo che c'ha la Specialized uguale a quella che utilizzano loro se il mio team aveva una Specialized aveva un modello generico diciamo come la KTM che gli è stata data con la parte davanti bianca in teoria c'è la possibilità dovrei averla scaricata che in base alle maglie che vanno a vincere no no Isidor si cambia in base se ho la maglia di leader al Tour de France la maglia gialla la parte davanti si dovrebbe modificare di giallo sarebbe molto carino da vedere questa cosa anzi ho paura che le ruote data non si vedono perché il modello da 60 mi sembra una ruota molto molto bassa quella che ha montato su tanto mancano 140 km all'arrivo possiamo aumentare la velocità direi se no non arriviamo più questa è giusto la prima gara giusto per simularla molto molto veloce poi più avanti di gare da fare ce ne sono tante tanto andiamo a prendere acqua dietro mandiamo Donnie a prendere l'acqua perché c'è anche Grisel ho sbagliato ok niente ho sbagliato fino ad ora ho sempre messo Grisel che proteggeva Donnie non so perché ho sbagliato a cliccare invece doveva proteggere Isidor no Isidor e come vi ho detto prima sarebbe attualmente il campione nazionale francese under 23 che ha da poco vinto anche il titolo no no attenzione cosa sta succedendo cosa sta succedendo ho messo un attimo in pausa l'ho messo un attimo a tutta perché hanno accelerato un po' troppo in questa discesa e ci siamo trovati ci siamo trovati dietro quindi rimani qua ad 80 tranquillo se non c'è la salita è già tirato prima quindi va più che bene se stai qua Nordhagen anche la Jant della Jco è molto bella con i colori che sono praticamente quelli reali vediamo se c'è una ripresa della moto davanti no abbiamo sempre la ripresa dietro però se guardiamo la Jant anche Tobias Fosse in fuga gente gente forte se vediamo la Jant la vediamo proprio che è la stessa che utilizza il Team quindi con gli stessi colori mi sa anche la Pinarello anche la Pinarello anche la Corratec tutte uguali alle bici che utilizzano utilizzano dal vero quindi molto molto figa questa cosa le MMR addirittura della Team Car Rual tanto Nordhagen non staccarti dai stai là tanto il gruppo dietro è aumentato perché siamo 2 minuti e 50 vediamo che non perdiamo i corridori dietro se no questo potrebbe essere un problema tanto Seigard è l'unico che è andato un attimo dietro nel gruppo per ora stanno tutti davanti per fortuna ok allora mancano 100 km mettiamolo a 75 Nordhagen mettiamolo che collabora ovvio che se vanno un po' più forte in questo caso non collabora e l'importante è che non si stacchi però quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti in questo in questo strappetto in questo risciacquo che non accelerano troppo perché comunque se guardiamo i battiti non è che stanno andando pianissimo anche qua in gruppo difatti sono tutti un attimo sono andati un attimo indietro quindi mettiamo la siamo gli 80 che non si staccano perché sennò potrebbe essere un problema come devo dire ho fatto una gran bella squadra sono gasato per la stagione che verrà e sono curioso vedere tutti i risultati che riusciremo ad ottenere allora sarebbe stato ancora più bello fare la squadra secondo me che partiva da Continental Under 23 dopo un anno diventava Continental Pro il problema è che per far una stagione così sarebbero diventate troppo lunghe le puntate ci avrei dovuto far almeno 3-4 video a settimana se se ero sicuro che poi sarebbe stata seguita la serie non avrei comunque avuto problemi a farla siccome i video purtroppo non fanno tantissime visual e l'impegno che c'è dietro a un video comunque tanto ho preferito fare una squadra Continental Pro quindi se condividete il più possibile del video se mettete mi piace sotto il video YouTube e commentate anche facendo così migliorate diciamo l'algoritmo YouTube l'algoritmo YouTube poi consiglia di più il mio video in questo caso ho la possibilità anche di riuscire a far ancora più video su Prosecreen Manager e ho anche la scusa per mettermi a giocare sempre di più che non mi dispiace vi dico la verità e detto questo però dai torniamo a noi rimaniamo concentrati mandiamo Fairprost a Faracqua abbiamo ancora 3 minuti non dà che non collaborare troppo perché comunque qua c'è gente che va forte tipo Tobias Foss tipo Scozzo c'è gente che va molto forte possiamo anche secondo me anche se dovesse andare male la fuga non riusciamo la volata che non riusciamo a far farla volata al nostro capitano Isidor forse Nordhagen qua davanti dovrebbe riuscire almeno fare una top 5 forse top 5 no ma top 10 sicuro perché sono i 12 quindi almeno 2 dovrebbe riuscire a batterli il problema è che non c'è una volata tanto forte va molto bene in salita va molto bene in collina va molto bene in pianura è molto combattivo ha tanta resistenza tanta grinta però non è veloce ma non importa allora abbiamo ancora 2 minuti e mezzo mettiamo che va un po' più forte perché mancano 27 km all'arrivo e ci sono ancora 2 minuti e mezzo quindi c'è una grande possibilità che la fuga arrivi attenzione attenzione tanto il nostro capitano è qua comunque dietro una volata la vogliamo fare per vedere come va forte allora adesso facciamo il trucco della borraccia ci mettiamo dietro chiediamo la borraccia e poi ci mettiamo a ruota così abbiamo praticamente saltato una fila un giro di cambi vediamo cosa sta succedendo in gruppo in gruppo stanno andando forte però ci sono i bisman che sono stanno andando molto forte anche i tudor occhio perché i tudor sono i nostri rivali diretti sia in svizzera ma anche allora adesso iniziamo a fare un treno quindi mettiamo tutti a 99 noa isidor allora eh niente io mi sono giocato griselle per proteggere per proteggere isidor noa isidor mi sa che allora normalmente io faccio così i treni l'ultimo uomo ovviamente è quello più veloce poi il penultimo uomo è quello che ha comunque una bella accelerazione mettiamolo dietro donni in questo caso quel penultimo uomo è comunque uno molto veloce e il terzo ultimo uomo è uno che comunque tiene per un bel po' ritmi alti quindi in questo caso mettiamo solo tre uomini onde evitare di far casino mettiamo seigart è il nostro uomo che li tiene davanti con la scusa che abbiamo nordagen davanti anzi poi riusciamo anche a vederlo vabbè intanto seigart stai là questi sono i nostri tre uomini fair post o brian essendo tutti a 99 rimangono rimangono qua in zona però noi giochiamo con questi tre in questo caso che possono far la volata intanto però non dobbiamo dimenticarci che abbiamo anche nordagen qua mettiamo 99 nordagen che hanno un minuto e mancano 11 chilometri quindi possiamo giocarci anzi un minuto e 40 quindi è molto probabile che arrivino qua non dobbiamo bisogna fare un attimo la spola tra davanti e dietro anzi adesso riusciamo vedere anche cosa succede qua davanti però la vedo dura quindi prendiamo la ruota di qualcuno veloce tipo chi ci potrebbe essere craddock vediamo ecco i più veloci sono qua allora io proverei a seguire craddock perché di un teamwork tour sicuramente va forte anzi lo vedo un attimo barcollante quindi se chiediamo fosse non lo sbagliamo non avendo un personaggio molto veloce adesso il problema che sarebbe da anticipare però se anticipiamo adesso eh o c'è che odiamo qualcuno oppure non riusciamo mai a fare la differenza con queste velocità così alte quindi mettiamoci in diritto la FOS e speriamo di aver ecco tipo questo caso è perfetto se rallentavano potevo scattare comunque in questo caso non abbiamo molte alternative anzi potrò non fare così Paul Magnet segue scusatemi no Isidore il nostro velocista segue Van Poppel direttamente sfruttiamo i treni degli altri vediamo cosa succede davanti bravo Nordhagen 3 km parte la volata parte la volata diamone il gellino diamone il gellino e mettiamoci dietro a eh Kobo Kobo quello che sta scattando è quello più veloce anche aia 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 no dai non può andare non può andare così mettiamoci dietro a Scotson intanto vediamo cosa sta succedendo dietro bravo no Isidore anche se forse la Movistar mettiamo diciamo che segue il canale meglio intanto qua dietro prendevano prendere tutti il gellino niente ci siamo fatti scappare no dai sono scappati loro dai però seguili seguili Nordhagen Antonna perché non li segue vabbè dai facciamolo partire basta eh brucia brucia un po' questa volata che che non ha non ha seguito i personaggi giusti al momento giusto pace vabbè è un ottavo posto che comunque male non è e dietro però vediamo no Isidore che l'ho fatto partire tardi perché mancano 60 metri 600 metri 60 metri e sarebbe quinto del gruppo vediamo se negli ultimi metri guadagna beh dai beh comunque promette molto bene promette molto bene si è piazzato in sedicesima posizione devo dire che per essere la prima gara dai ci riteniamo abbastanza soddisfatti abbastanza non non soddisfatti del tutto niente mi sono perso il podio sono andato direttamente a vedere i risultati perché volevo vedermi anche il replay per vedere bene anche i componenti ma niente comunque chiudiamo con un bel ottavo posto avevamo per fortuna qualcuno dentro la fuga e sedicesimo no Isidore quindi è 2 3 4 dai comunque nella top 10 del gruppo è andata così la prima gara di questa nuova stagione della carriera di Pro Cycling Manager siamo arrivati alla fine del video spero che questo nuovo contenuto vi sia piaciuto spero che questa squadra che ho creato vi sia piaciuto se avete dei suggerimenti iscrivetevi pure tutti qua sotto nei commenti che li leggo tutti e normalmente rispondo anche a tutti i commenti mi raccomando se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale c'è la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima e ci vediamo